L'ennesima mareggiata, come si può vedere, in sostanza abbiamo un mare che è quasi forte a otto, lo stabilimento balneare di cui io sono concessionario, Bagninoa Romare, per ben 10 volte, 10 anni consecutivi, ha subito dei danni rilevanti e effettivamente è una situazione che non è più sostenibile, perché sotto abbiamo i magazzini, tutto allagato, l'anno scorso abbiamo andato tutta regia tutto, praticamente dai frigoriferi alle scoviglie e quant'altro e quest'anno non ho ancora aperto, ma ritengo che la situazione sia assolutamente analoga, perché comunque l'acqua è penetrata per 20-30 cm all'interno della struttura sottostante. Per quanto mi riguarda in questa zona, non essendoci teleprotezioni, ma senza dare colpa a nessuno, non sono state realitate per le opere di difesa e praticamente mancando queste opere di difesa, l'acqua, come si può vedere, arriva praticamente agli scalini che consentono di scendere dalla spiaggia, quindi ribadisco, sono ben 10 anni che questa situazione si ripete costantemente, o in questo periodo, oppure gennaio-febraio. Grazie a tutti.